Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro dove si trova la stella segreta della settimana 9 della season 10 di Fortnite. Ci troviamo all'ex Tomato Town, oppure Tempio Tomato, sopra alla testa del pomodoro, e la nostra stella segreta è esattamente in questo punto della mappa. Beh ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video, mi raccomando un bel piacere in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima, ciao!